Oggi si è sottoscritto l'accordo di programma per lo spostamento dell'Accademia di Finanza in Largo Barozzi, una tappa fondamentale per l'insediamento di questa importantissima istituzione e per questo importante servizio, con un intervento che ha delle ricordate significative sul quartiere per oltre 5 milioni di euro, con un oneri generato e complessivo di quasi 8 milioni, il cantiere più importante degli ultimi 30 anni nella nostra città, ad esclusione del nuovo ospedale e appunto con prestazioni e investimenti che andranno a ridisegnare il volto delle aree circostante e non solo quelle all'interno dell'Accademia.